Marino, il tuo curriculum parla chiaro, sei uno dei grandi, un veterano di questa squadra, però sei un giovane visto all'opera, come ti alleni. Visto gli allenamenti del mister e quanta fatica richiede, magari può sembrare che sia così, però l'età c'è, sono contento di essere arrivato, di giocare per il Messina, visto che è la mia prima esperienza da professionista in Sicilia. E con i giorni a casa perché sei di Mazzara del Vallo e conoscevi anche modi ovviamente. Conoscevo il mister, poi l'anno scorso ci siamo affrontati in campionato, quindi poi c'è stata questa possibilità di lavorare insieme, per fortuna è andata bene, l'ho colta subito. L'anno scorso ti abbiamo visto contro con la maglia della tina, tu sei un centrale. Sì, sono un centrale di difesa, Mancino, poi posso adattare in qualsiasi ruolo della difesa, in base anche al modulo e a come voglio giocare il mister. Cosa senti dire ai tifosi del Messina, sai che ora c'è un po' di Maretta? Di sicuro questa situazione dispiace per prima a noi, perché ho avuto modo di essere allo stadio per il concerto di ultimo, ho visto lo stadio pieno e ovviamente a noi giocatori piacerebbe vederlo per le nostre partite, quindi la mia speranza è che questa agitazione si possa calmare e vedere la curva piena quando giochiamo in casa a Messina. E con un gruppo giovane, con qualche veterano, come stai vedendo crescere e nascere questo gruppo? È una grande esperienza. Piano piano la società sta pensando sicuramente a colmare l'organico, però tutti i ragazzi che stanno arrivando hanno grossa fame, grossa volontà, il gruppo sta nascendo, siamo tutti dei bravi ragazzi che lavorano sodo, quindi di sicuro ci aspetta un bel campionato e la squadra sta crescendo bene. È un campionato che sarà molto difficile, forse più complicato dello scorso anno. Sì, perché si sono aggiunte neopromosse di buon livello, in più le squadre che l'anno scorso hanno fatto male, tipo il Catania, quest'anno penso reciteranno un ruolo da protagonista, quindi è un campionato molto più difficile, lo sappiamo, e siamo gasati per quello anche.